Buongiorno bambine e bambini, oggi vorrei chiedervi una cosa, quale significato ha per voi donare? Donare per me significa dare qualcosa a qualcuno che non ha. Per me donare non significa soltanto qualcosa di materiale, ma anche un aiuto e una carezza per rendere felici le persone che hanno più bisogno. Per me donare è una forma di felicità non solo materiale. Secondo me donare significa dare qualcosa a chi non ce l'ha. Donare rende felici i bimbi più bisognosi. Donare è ciò che aiuta anche un amico a stare bene. Donare è la più bella forma di amore. Per me donare è fare piccole cose con grande amore. Significa qualcosa che ti può aiutare oppure qualcosa che può servire a una persona, come per esempio un abaccio. Secondo me donare vuol dire rendere felici qualcuno. Donare per me significa aiutare le persone bisognose. Bravi ragazzi. Donare vi dona. Donare vi dona. Grazie. Grazie a tutti.